Seconda edizione di Opera Seme. Seconda edizione di Opera Seme, terzo anno di programma internazionale per formazione sul bel canto e l'opera lirica. E questo anno è il secondo anno, siamo molto felici perché apriremo i risultati di quello che è il lavoro delle opere che stanno preparando proprio in questo mese ad Arezzo gli studenti stranieri con insegnanti internazionali. Quindi abbiamo insegnanti dall'opera di Zurigo fino a insegnanti anche italiani molto quotati come Mario Cassi, Eva May o insegnanti americani che stanno formando i ragazzi in queste tre opere e sarà un'opera di Cimarosa, Il Matrimonio Segreto, in doppia replica che verrà fatta sia al Chiostro del Comune il 23 che il 24 al Festival di Valenzano, al Castello di Valenzano. Il 25 e il 26 due opere di Gluck per poi concludere con il Broadway Concert, quindi questo grande concerto sempre accompagnato tutte le opere e compreso il Broadway Concert da orchestra Oida che verrà fatto al Teatro Petrarca. Come è nato questo incontro con Spazio Seme? Da sei anni adesso è una collaborazione molto bella entro noi. Questa è la terza edizione, abbiamo provato a cominciare l'anno 20, allora abbiamo il Covid ancora il 21, ma abbiamo cominciato il 22, questo è il terzo anno e siamo molto contenti, è un gruppo di studenti veramente bravissimi. Grazie a tutti!